e eccoci qua come promesso i miei chicchies con il video su scontro tra titani diciamo che questo è un pre stagionale della seconda stagione e questi video che farò ogni tanto ora su scontro tra titani su mortal kombat x li vedete sempre nella playlist della prima stagione di scontro tra titani perché come ho detto nella cripta nel video della cripta che ho pubblicato martedì ragazzi miei i nuovi video della seconda stagione di scontro tra titani davvero che vi ringrazio tantissimo per il grande successo che hanno avuto tutti i video su mortal kombat x ci saranno dal 16 maggio o meglio 16 17 quando mi arriva su injustice 2 oggi ci sarà uno scontro che mi sono andato a rivedere nelle mail devo anche andarmi a prendere altri sconti perché non li avevo più segnati e ci sarà uno scontro richiesto mi da violetta mary si proprio te mi faccio proprio il tuo scontro che mai richiesto con raiden vediamo che costume fico raiden oscuro quindi oggi dispenseremo lettere del line per pagare le cacchio di bollette e lo faremo giustamente signore delle bollette contro l'alieno poi non mi ha detto in che luogo magico farlo quindi raiden contro l'alieno dato che lui deve pagare le bollette dato che ha un inquilino in più lo facciamo invocatore così almeno riusciamo a prendere più soldi media ho capito che deve pagare le bollette però mi stia calmo per cortesia e giustamente lo facciamo nella sala congressi dell'enel perché l'alieno è stato richiamato direttamente nella sede centrale perché negli ultimi tre mesi non ci sono le bollette pagate test your mind test your mind test your mind test your mind posti test your mind 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 L'abbiamo preso Non mi ricordo No signore della tempesta Devi mettersi in una combo di 10 colpi Durante il match Ciao mare Super scossa Raiden deve premere 3 volte Durante la scossa letale Giù avanti triangolo Intanto che ci sono Per non saper né leggere Né irradiare bollette Mi metto qua le fatality Che se le sbaglio le sbaglio E devo fare queste cose Sbam perfetto Abbiamo già capito Siamo già in castagna Abbiamo già vinto il mondo Yuhu Sono troppo forte Perché settembre Ottobre Novembre Dicembre Sono 4 mesi Volevi fregarmi Che non pagavi le bollette Ma quelli dell'Ener Sono persone maligne Tutte le settimane Dovete cambiare contratto Perché dovete dare guadagno a noi Hai capito Ah Schifoso di un alieno Vuoi te che sei di un altro paese E non pagarle Invece le paghi Esattamente adesso Devo soltanto ricordarmi di La mossa di Bison È proprio lui Siamo imparentati No Dall'altra parte Alieno Mi fa Mi fa Mi fazzi fare Alieno È il primo scontro Tra i titani Le tiro il piscio addosso Eh vabbè Il grande E come si dice Prelibato piscio di coso Del mostro finale Che non mi viene il nome Lì Shing Zung Barambambu No Nuove bollette Leo Un inquilino Che non è stato registrato al comune E quindi deve pagare Un altro Più Più soldi per noi Stia fermo però Fermi 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 Devi pagarle Non provocare Un dio Raiden Wins Non provocare Quelli dell'Ener Perché altrimenti Poi ti si fottono Devi darmi Tutti gli arretrati Ragazzi Ci vediamo Alla prossima Con un nuovo scontro Chi Mi aveva Scritto Uno scontro Da fare Scrivetemelo Che Io Lo proporrò Questo appuntamento Dai Facciamolo Una volta alla settimana Fino al 16 maggio Spero che l'episodio Vi sia piaciuto E ricordatevi Di pagare Sempre Le bollette Dell'Ener Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti